C'è più avviso del tutto quello che uno passa quando nella sua veste di primo cittadino lo facendo. Quello che ti voglio dire è che Casoria in questo momento non ha bisogno di nuove elezioni. Casoria ha bisogno di una maggioranza coarta e di un'opposizione che faccia l'opposizione e sia vigile sul controllo di tutti gli atti che vengono generati dall'amministrazione. E allora non mi spiego come anche in questa seconda seguita di Consiglio Comunale con l'ordine del giorno c'è un atto tecnico, amministrativo, che non c'è niente che bisogna soltanto votare, ma in questo momento, su questo atto, si trovano delle esibibili strade nella sua maggioranza. E allora la mia esortazione, il mio invito a te direttamente, perché nei prossimi Consigli Comunali dobbiamo e potremo discutere di temi di una certa importanza. Vedi il PUC, vedi il Piero, vedi il Loro, vedi il Loro, vedi le Arie di Sveste e altro. E allora c'è la necessità, c'è la necessità che tu abbia un momento di riflessione con la tua maggioranza per trovare quella coesione che ti deve permettere di andare avanti per cercare gli obiettivi che tutta la città si aspetta. Grazie a tutti.